40 anni. 40 anni sono tanti. 40 anni da quel maledetto 27 giugno 1980 che si compieranno domani. 40 anni che passeranno nel silenzio, nell'ombra, nell'omertà, nella complicità, come è successo sino adesso, anno dietro anno. 40 anni da quando nei cieli di Ustica è scoppiato il Douglas 19, lasciando 81 morti, dei quali 77 passeggeri e 4 persone dell'equipaggio. 40 anni sono tanti. 40 anni di impunità sono troppi. Si sa tutto e si sa nulla. Si sa chi, come e perché lo ha fatto. Chi, come e perché ha coperto e insabbiato quel delitto internazionale con complici internazionali. Eppure non si sa nulla, perché ancora adesso non si è approdato a nulla. 40 anni sono tanti. Io nel 1980 avevo 11 anni. 40 anni dopo ne ho 51. E da quando avevo 11 anni che non si è fatto giustizia. Adesso ne ho 51. E ancora sopra i cieli di Ustica continuo a aggravare l'omertà. L'omertà di 40 anni. Di ingiustizia. Di silenzio. voglio. Vogliamo la verità. Ma arriverà mai questa verità. Ecco, faccio questo video commemorativo. 40 anni di silenzio. 40 anni sono tantissimi. Io ne ho 51. E questa cosa va avanti sin da quando io avevo 11 anni. E molte e molti di voi non eravate neanche nati. Forse avete 11 o 18 anni adesso. E dopo Ustica ci sono state altre portate. E' sempre l'omertà. Il silenzio. Dei nostri politici. Dei nostri rappresentanti. Dei nostri non so che parole usare. Tanto forte è la mia indignazione. 80 anni di crimini. 80 anni di silenzi. Beh. Mettendo insieme tutti gli armi delle stragi in Italia. Volevo dire 40. 40 anni che per questo crimine sono accessivi. Quando si verrà a sapere tutta la verità? Perché continuano a facerla? Per non dire poi delle bombe delle stragi che ci sono state nel nostro paese sin dagli anni 70 e 60. Va bene. Nel dopoguerra c'è stata una specie di guerra civile. Lo sappiamo tutti. Poi gli anni di piombo sono state in guerra civile. Combattute tra frange estreme, estrema destra e estrema sinistra. Va bene. Allora vi lascio tutti meditando. E vi ringrazio di continuare a seguirmi. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Azionate la campanella. Date like o dislike a questo video. E mi raccomando. Commentate sotto cosa ne pensate. Ci sarà mai giustizia per ustica? E soprattutto condividiate questo video. Affinché anche altri possano commentarlo. E dire la loro. Su ciò che accade nei cieli di ustica. E se ci sarà mai giustizia. Allerci dal vostro capitano Santrinciano.